12 maggio 1985, Serie B, il cross di Caputi, il colpo di testa molto bello di De Martino, il Pescara allenato da Enrico Catuzzi, era l'ottavo gol in questa stagione del centravanti dell'epoca, il pari su rigore, guardate le immagini dal basso che sono molto belle, il pari su rigore, c'è un'azione di Sorbello, stiamo per vederla, tra l'altro Sorbello che indosserà la maglia del Pescara nella stagione 91-92, quella della promozione di Galeone, Sorbello che evita Mazzeo e entra in contatto con Baldini, l'arbitro da Pozzo di Monza indica il dischetto, eccolo qui il fallo di Baldini su Sorbello, Fasolo trasforma dal dischetto spiazzando il portiere di quella stagione, Maurizio Rossi, 19 maggio 1991, 2-2, Monelli sblocca il punteggio sul calcio di rigore, sempre campionato di Serie B, poi un giovanissimo Demetrio Albertini, fa 1-1 con la complicità evidente del portiere del Pescara, poi il vantaggio del Padova con l'ex Damiano Longhi, un contropiede fulminio, Longhi aveva giocato l'anno precedente con il Pescara nella stagione 89-90, e poi il 2-2 di Ferretti, stiamo per vederlo, è un gran gol, il controllo con il petto, il gran sinistro all'angolino, nulla da fare per il portiere del Padova, finirà dunque 2-2. 14 giugno 1992, guardate il colpo d'occhio che presenta lo stadio adriatico, Pescara di Galeone aveva già centrato l'aritmetica promozione da due settimane nel confronto interno con l'Udinese, questa era l'ultima partita dopo la trasferta di Taranto, lo stadio gremito spettacolare, straordinaria questa immagine, finirà 1-1 con il Padova, l'ultima giornata di quel campionato 1991-92, il Padova si porterà in vantaggio, ecco l'acquilazione, il cross di Di Livio che poi andrà a giocare nella Juventus, il colpo di testa di Montrone che giocherà nel 94-95 proprio nel Pescara, non irreprensibile. Il portiere Savorani, guardate che cosa fa Allegri, una giocata di altissimo profilo per Ferretti, l'inserimento, il gol del pareggio. 1-1 dunque era il 14 giugno 1992, 30 novembre 1997, il Pescara di Visciti batte il Padova di Pillon, il gran gol di Michele Gelsi, il Padova con Allegri infuriato, nervosissimo, viene espulso, Max Allegri dal direttore di gara, allenatore del Padova, ricordiamo ancora una volta era Beppi Pillon, il raddoppio del Pescara, questa verticalizzazione, l'assist di Lamacchi per Beghetto 2-0, poi il Tris firmato nel secondo tempo da Fabrizio Cammarata, eccolo qui il colpo sotto sul portiere del Padova e poi il poker firmato da Sossio Aruta proprio nei minuti finali della partita. Pescara batte Padova 4-0, 19 marzo 2011, Serie B Pescara-Padova 0-2, questo è il primo gol di Matteo Ardemagni su assist di De Paula, ex Chievo, brasiliano ex Chievo, tra l'altro nel Padova c'era il Sharawi, nel Pescara Marco Verratti, erano entrambi giovanissimi, questo è il gol di Matteo Ardemagni, il gol dell'1-0, l'allenatore del Pescara Eusebio di Francesco sfiora il pari, Cristian Bucchi con un colpo di testa che si infrange sul palo della porta del Padova, allenato in quella stagione da Dalcanto in contropiede nella finale, il 2-0 sempre di Matteo Ardemagni, Pescara 0-0, Padova 2, arriviamo con le immagini al 12 novembre 2011, il Pescara di Zeman che sblocca il punteggio con questa volata sulla fascia destra di Andrea Gessa che vede l'inserimento all'altezza del secondo palo di Lorenzo Insigne, il Pescara dunque si porta in vantaggio, Pescara 1-0, rivediamo ancora la progressione di Gessa che alza la testa, l'assist perfetto per Lorenzo Insigne, il pareggio di Tremisan che gioca ancora nel Padova, un gollonzo, una serie di deviazioni, beffato Luca Anania, Tremisan che gioca ancora nel Padova, classe 1983 ex, giocatore anche di L'Aquila e Giulianova in Abruzzo. Eccolo qui il pareggio di Tremisan e siamo all'ultimo confronto all'Adriatico, Giovanni Cornacchia 21 dicembre 2013, la rete di Cutolo, il Pescara di Pasquale Marino, Cutolo che mette a sedere il portiere Pescara, batte Padova 1-0, un gran golla di Aniello Cutolo, quel Pescara era in fortissima ascesa, aveva vinto diverse partite, si era portato a pochi punti dal primo posto, poi la sconfitta interna proprio a fine dicembre contro l'Empoli di Maurizio Sarri.